Elon Musk che vi ricordo secondo la mia opinione è uno degli uomini più ricchi del mondo forse è uno proprio dell'unico uomo sulla faccia della terra che è più ricco del mondo padrono di Tesla, gestisce anche Amazon e ovviamente anche Excel ex Twitter pensate che ha fatto, visto che ha un sacco di soldi, un regalo un po' particolare ad un macellaio ceceno che si chiama Kadirov in particolare proprio che Elon Musk avrebbe regalato al macellaio ceceno Kadirov un sibertruck, si tratta comunque di un carro diciamo così un mezzo che ha la possibilità di offendere a livello di armi infatti pensate che in questo mezzo ci sarebbe anche una mitragliatrice io lo chiamo una sorta di carro armato con dentro, con inclusa anche una mitragliatrice insomma, Elon Musk qua l'ora, beh non credo, non è un bel regalo secondo me però sa di fatto che il web parla molto di questo regalo che ha deciso di fare al macellaio ceceno Kadirov da parte proprio di Elon Musk io vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi insomma, tutti i regali sono buoni ma questo mi pare un regalo veramente assurdo dal mio punto di vista e da mia opinione una buona serata a voi tutti